ha cominciato giovanissima a giocare a calcio e volevo chiederle se questo video che ha visto quando i maschi e le femmine non potevano giocare insieme, se questo servizio che ha visto di Francesca Mannocchi le ricorda qualcosa del momento in cui lei è iniziato e comunque della funzione del calcio in certe zone d'Italia e in certe periferie? Io posso praticamente dire che quando giocavo io proprio perché non era possibile attraverso le regole lo si faceva in cortile con gli amici, col fratello, a scuola eccetera questo per dire che quando c'è un pallone di mezzo si diverte e se tu come ragazza hai delle qualità poi i bimbi non fanno differenze, ti accolgono e quindi è bello giocare tutti insieme poi è chiaro che il calcio crescendo prende una doppia direzione o continui a livello sociale per divertimento oppure hai talento e cerchi di coltivarlo per raggiungere dei traguardi agonistici importanti entrambe le funzioni secondo me sono fondamentali perché comunque il calcio significa aggregazione significa unione, significa anche poter esprimersi se stessi e quando lo si può fare attraverso lo sport che è uno strumento educativo, formativo, positivo penso che sia un aspetto da coltivare e in qualsiasi angolo lo si possa fare Cottarelli allora, veniamo a lei